La nostra associazione Cultura Nazionale presenta un altro grande evento, il libro Il Popolo di Salvini con Andrea Pannocchia e il sindaco di Cascina Susanna Ceccardi che a suo modo è diventata un personaggio perché dopo 70 anni di governo interrotto alla sinistra ha cambiato amministrazione, Cascina è diventato un comune a trazione leghista e quindi viene a presentare il suo libro che si chiama Il Popolo di Salvini, spiega come negli ultimi anni la lega si sia modificata da un movimento sostanzialmente regionalista a un movimento sovranista e nazionale, quindi viene a spiegare qual è stata questa metamorfosi e soprattutto cosa ne pensa il popolo leghista. Essenzialmente il libro come ha anticipato il presidente dell'associazione rappresenta un po' un viaggio quasi dantesco all'interno della realtà leghista perché Susanna Ceccardi è il Virgilio che accompagna Andrea Pannocchia all'interno di questo viaggio, un viaggio che come descrive lo stesso autore è un viaggio tra dicotomie, un viaggio tra opposti, un viaggio tra forti contrasti e contraddizioni. La vecchia anima leghista di Bossi, la vecchia anima dell'articolo 1 dello statuto della Lega Nord, ossia l'indipendentismo della Padania, che si scontra e si confronta con le nuove sfide del mondo globalizzato, con le nuove sfide dell'Europa, degli immigrati, delle grandi crisi economiche. Una nuova lega che nasce all'interno di un contesto internazionale che vede Trump, che vede la Merkel, che vede la Brexit come grandi protagonisti di una scena così complessa, un percorso davvero intricato, davvero ampio, che però dà un quadro preciso di quello che è un nuovo partito, un partito capace di attrarre molto più di quella che era la base storica della Lega, un partito che forse si sta imponendo come nuovo protagonista della scena del mondo di destra.